Tino Iannuzzi, deputato del PD, ha ricevuto in commissione lavori pubblici la risposta del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con il sottosegretario Umberto del Basso De Caro alla interrogazione condivisa dal collega Simone Valiante per sollecitare il trasferimento allo Stato e quindi all'ANAS della gestione della strada provinciale numero 430, la cosiddetta cilentana, che da Pestum raggiunge Policastro Bussentino. Tale strada svolge una funzione fondamentale per il sistema dei collegamenti e della mobilità, congiungendo alla rete delle strade statali l'intero occilento costiero, con tanti centri di riconosciuta rilevanza turistica nazionale ed internazionale. Nella risposta del Ministero si sottolinea che si sta procedendo al trasferimento dalle province all'ANAS di 7.000 km di strade provinciali, proprio per supportare le province nel compito di manutenzione e cura delle strade. Pertanto è questo il momento per attivare il procedimento formale e per porre con forza la questione del ritorno all'ANAS della manutenzione e della cura della cilentana. In merito al procedimento per la nuova classificazione della cilentana, quale strada statale, la proposta deve essere avanzata dalla provincia di Salerno, nel dialogo con i comuni interessati, e deve poi essere trasmessa alla Regione Campania. Occorre successivamente acquisire il parere di ANAS e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La procedura si conclude poi con il decreto del Ministero delle Infrastrutture.